Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quel Taleale Eccoci qui oggi con Life is Strange Dopo aver visto l'unboxing della Limited per Playstation 4 Partiamo anche con questa serie, titolo che come vi avevo già detto nell'unboxing Aspettavo da un bel po' di tempo Ho approfittato diciamo della release in versione scatolata per Playstation 4 E quindi ho preso direttamente quella lì Ci sono anche i sottotitoli in italiano che precedentemente erano stati fatti anche in modo tra virgolette amatoriale su PC Aspettavo anche quelle traduzioni poi quando ho saputo dell'uscita su Play 4 con i sottotitoli Ho preso direttamente questo Allora andiamo un attimo nelle impostazioni Più che video, vabbè queste lingue sottotitoli Vabbè presumo già abbia Predefinito comunque già c'è in italiano Quindi sottotitoli sì, dimensione sottotitoli normale Poi vediamo se è troppo piccolina Andiamo a modificare l'audio Ci sta, vabbè per il momento lasciamo tutto così E iniziamo una nostra nuova partita vai Spero che questa serie vi possa piacere Il titolo mi è sembrato interessante Sì da sin da quando fu stato annunciato È un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore Le conseguenze delle azioni e delle decisioni avranno effetto sul passato Sul presente e sul futuro Scegli con cautela Ma soprattutto con sportiveggianza Scegli con cautela Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse I'll be safe if I can make it there Ok Quindi ci dirigiamo verso il faro Non so forse è un po' scuro Vabbè vediamo Siamo appena partiti Siamo in una condizione un po' precaria Dal punto di vista meteorologico Ma penso anche dal punto di vista Orientativo Perché la diva non la più quali Di dove sia Ok Si avvicina a un bel tornado Quindi Mi sembra il caso Mentreci a vedere la storia Della Zona Come mettere un po' più all'interno Costa Si avvicina a un po' più all'interno From color To Kira Skiro Now Can you give me an example Of a photographer Who perfectly captured The human condition In black and white I didn't fall asleep And That sure didn't feel like a dream Weird Diane Arbus There you go Victoria Why Arbus Look at this crap How can I show this to Mr. Jefferson I can hear the class laughing at me now Classia tra l'altro Bostanzia Allora Okay Sottotitoli Sono schippati Allora Vediamo un po' il nostro diario Ah Vabbè Al momento Otto pagine Questi sono i Presumo personaggi Vediamo Max Questo Leggeremo un po' tutto ragazzi Siamo all'episodio 1 Ok Vediamo un po' In cosa consiste il tutto Passa un diciottesimo compleanno speciale Per noi Sarai sempre la nostra bambina Controlla il conto Non spenderti Tutto in una volta Se per tutto ok Ti va di prendere un tè più tardi Assolutamente Sono libera dopo le 4 A più tardi Buon compleanno Maxine 18 anni Incredibile Sembra ieri che ti ho stretta Per la prima volta fra le braccia Baci Warren Ricorda di guardare Necromantic Sulla mia chiavetta E Mad Max Spacchiamo tutto Aspetta Devo studiare per il compito di fisica Quindi se spacchiamo qualcosa Dovremmo analizzare il fenomeno Non ignorarmi Ok questo è uno stalker Abbiamo capito Vediamo anche un po' di altre cose Io partirei più che altro con i personaggi Max Mi chiamo Max Caulfield E già Presumo Caulfield E già dalla tenera età Sapevo di voler fare la fotografa Ho sempre osservato il mondo Attraverso il mio obiettivo Forse è un mio modo per far parte del mondo Ma a distanza di sicurezza Per qualche ragione Mi hanno sempre attratto Le vecchie macchine fotografiche analogiche Piuttosto che la tecnologia digitale Amo molti stili e tecniche diverse Ma adoro i selfie Con l'istantanea Non importa se la gente mi prende in giro Sono in buona compagnia E ora sono tornata nella mia città natale Per studiare fotografie all'Accademia Blackwell E con una borsa di studio Quando me ne sono andata Ho lasciato qui Chloe La mia migliore amica per sempre Almeno finché non me ne sono andata Senza parlarle per 5 anni E fa così strano E fa così strano essere tornata senza averla ancora vista Ora ho 18 anni Sono ufficialmente adulta E anche se non mi sento sempre poi così matura o saggia Sono pronta a iniziare una nuova vita Qui con la mia macchina fotografica a retro Al mio fianco Un bel sorriso Vediamo Ah vabbè questi sono gli altri personaggi E un'occhiata breve Non sono Max Jefferson Non solo Max Jefferson È uno dei migliori fotografi del mondo È pure il mio insegnante È una delle ragioni per cui volevo andare alla Blackwell Quanto spesso si può dire Di avere uno dei tuoi idoli come mentore Ho sempre amato il suo stile Gotte Art Deco È così versatile nelle sue opere Per la stampa e la pubblicità Eppure può essere un po' condiscendente È figo per la sua età Ma piuttosto distaccato e a volte pretenzioso Fa quel sorriso compiaciuto Quando crede di aver ragione Penso però che ci voglia preparare Alla dura vita d'artisti A tempo pieno Si comporta come se comprendesse il mio lavoro E la mia ossessione per le immagini analogiche Vuole che partecipi al concorso Eroi di tutti i giorni Ma finora ho fatto del mio meglio per evitarlo Il vincitore volerà a San Francisco Per rappresentare l'Accademia Blackwell E ottenere pubblicità a livello nazionale Vorrei credere che il mio lavoro Sia abbastanza buono da vincere E sono lusingata che Jefferson mi spinga a partecipare Non ricordo di aver visto Kate Marsh Sorridere o ridere questo mese È davvero dolce e gentile Anche se gli altri studenti La prendono in giro per la sua campagna Per l'astinenza Nonostante la loro età Sono davvero immaturi So che fa parte di molti gruppi religiosi Ma finché non mi farà una predica A me va bene Nelle ultime settimane è stata Iper silenziosa e chiusa Sembra in modalità zombie Vorrei poterla aiutare Ma malapena riesco ad aiutare me stessa Mi chiedo se tutto quel bullismo L'abbia sfinita Non mi sorprenderebbe Devo cercare di parlare più spesso Magari invitarla per un tè o un film Anche se adulta Scommetto che non ha il permesso Di vedere film vietati ai minori E poi c'è Victoria Case L'elite dell'accademia Blackwell Una vera stronza Mi dispiace dirlo Ma non so perché una persona ricca e bella Debba essere così cattiva I diciottenni delle accademie prestigiose Dovrebbero evolversi In artisti e studiosi Non in partecipanti di un reality Victoria fa di tutto per creare da drammi Addirittura spreca il suo tempo Provocandomi a lezione E schernendo Kate Marsh Sul serio Magari i suoi genitori potessero vederla in azione Le taglierebbero i fondi all'istante Però fa parte del Vortex Club I cui membri sembrano essere i padroni della scuola Forse è per quello che se ne sbatte di tutto Stranamente sa molto di arte e fotografia Sa perfino nominare tutti quegli artisti francesi Dai nomi impronunciabili Le sue foto sono un po' fredde Ma ha un buon occhio Anche un buon occhio per il prof Jefferson È così palese che mi vergogno per lei Non perde l'occasione per fargli le fusa Ma lui mantiene le distanze Lo sappiamo tutti Che sta cercando di vincere il concorso Eroi di tutti i giorni Scommetto che va fuori di testa Quando non può comprare o sedurre qualcuno Ok Vabbè Poi leggeremo anche gli altri Lascia fare Lascia fare Mi rifiuterei però Vediamo Dai eh Facciami birra pure a scuola Qua Mi scusi Mi scusi Ehm Mi scusi Mi scusi Mi scusi Mi scusi Che fa mi butto Comunque dobbiamo Cercare una scusa Allora diciamo che lo sapevo ma Effettivamente Beh abbiamo fatto bene a leggere I tipi Che ci sono in classe Almeno come vedete Approfondiamo un po' più la storia E sappiamo che sono bastardi Ad esempio la signora Ma sentiamo la lezione A campanella Che regrazione Ok Poi approfondiremo anche le altre cose Che ha scritto sul diario Ehm Perché giustamente il gioco va esplorato Va spipolato E infatti sta lì Con il prof Allora Guardiamo il taccuino Guardiamo il tablet Agheriamolo Sti cazzi Prodotto Caratterizzata dalla velocità e potenza Di una Greenlight La GRLT64S Offre una gamma di funzioni E maneggevolezza Cattura quello che vuoi Quando vuoi Senza alcuna modifica Le immagini JPEG Sono di qualità mozzafiato E includono un nuovo livello Di profondità Nitidezza E plasticità Solo 5.299 dollari Sti cazzi Damo se Allora C'è qualcun altro Che ha lasciato Delle incisioni E fammi una foto Ok Siamo molto retro Con questa Polaroid Va bene Queste sono le nostre foto Ah ok Quindi aspettate Dobbiamo catturare Tutti questi Dov'erano? Mi sono persi Porca mignotta Dov'erano? Dov'erano stavano? Non lo so Mi sono perso le foto Va bene Kate Si è Si vede dal capello Che non ce la fa più A trattenere le idee Un te Mamma mia Che tristezza Però eh E che cos'è? Io mi metto al computer La stampante Possiamo Guardare Usiamo una Polaroid Non lo sapremo mai Vai vai Allora avevo visto Che c'era anche Qualcosina qui Pallina di carta Ok Vediamo se c'è Qualcos'altro Da spippolare Qui Prof Diana D'è stata Questa C'è sta Prova Vabbè Diciamo che non ho avuto tempo Non ho avuto tempo Non ho avuto tempo Non ho avuto tempo Tanto molto Il lavoro Max Tu sei un fotografero Che un liar Ora I know È un drag To hear Che un vecchio L'unico 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 Ma La vita Non ci aspettare Che ti Spendere Che Tu sei Tu sei Il mondo è Tu sei Blah 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 Certo? Ma Ma Hai Hai Un'unico Tu hai Il 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 Eh vabbè Allora Lasciamoli qui E noi diamo un'occhiata a queste immagini Ok C'è qualcos'altro qui di utile Possiamo andarci Non da qui magari Ma possiamo anche correre Aspettate eh Prova a vedere un po' i tasti Forse con R2 si corre Eh magari un mezzo tutorial Ce lo potrebbero fare Attenzione quello Si stanno ingroppando sull'armadietto Mi scusi In questa posa plastica Tra l'altro E andiamo al bagno No Ok Si è messa la cuffietta Sperando che non sia materiale coperto da copyright Altrimenti ci saranno problemi Ci saranno problemi Sicuro Eh nel caso se non sentite l'audio O la mia voce un po' rovinata Sapete qual è il motivo Però penso che siano Importanti anche Le musiche Vedremo Quindi stanno Ah età 19 Chimarono il tatuaggio di un drago Si penso che il copyright Ci inculerà da panico Il poster Un momento Aula di scienze Oppure Oppure Salve Ci conosciamo? No Questa è una delle due? Ecco Ah che è proprio il gruppetto di Cagagazzi Possiamo andare Ah no Ah quello stalkerone Vabbè Vediamo cosa ne pensa degli altri Salve E messaggerà da sola? Vabbè apriamo direttamente Eh ok Aspetta vediamo un po' tutti dai Facciamo i cazzi degli altri Ah però poi ho preso tutto No ok ho capito ho capito Ma tutti quei cellulari Attenzione rissa qua Eh scusi Vabbè una testata Ci può uscire uguale No? Ok questa è sempre La persona scomparsa Ci abbiamo due spicci? No Aspetta Poster Ufficio del preside Eh vabbè sempre Non penso Deve voler entrare dal preside Magari non c'è Tutti i costi cellulari Scusate Importuniamo tutti A meno ci facciamo un po' i cazzi degli altri qui al A scuola Allora poi facciamo una cosa ragazzi Per quanto riguarda Sì poi andiamo in bagno anche Il copyright se mi dovesse segnalare Magari Eh toglierò la musica Anche se sembra molto figa Ok Ok Allora Aspettate Dono un'occhiata anche ai tasti Spippolo tutto Ok La persona scomparsa Abbiamo capito Andiamo in bagno Magari questo primo episodio Non sarà lunghissimo Perché vorrei postarvelo in giornata Allora Rifrescatina Prima pisciatina Graffiti Vediamo i graffiti Non so se dobbiamo fare una pisciatina Noi ci proviamo Si può? Non si può Vediamo anche le altre scritte in bagno Campananti in gen Ah possiamo guardare Eh meglio di niente L'astinenza L'astinenza riempie il cuore Puoi sempre amare Imparare anche senza sesso Il tempo è dalla tua parte Anche il buon senso Usalo Scarabocchio Che twerk ha per il signore Eh Ok Può servire Ah ok Si sa mai Troppo oster E ci può stare Ci può stare Aspetta Prima Usa E facciamogli una foto Scusa No Eh babà Vai Sparaflexare la foto Eh appunto Certo è un secchio Della spazzatura Della spazzatura Del mocio Ma va bene Prima la foto Dopo guardiamo Tempistica Tempistica Eccala La sflesciata E facci vedere sta cazzo di foto Scusa Scusi Ha sbagliato Bagno La finezza Quella scherza Scusa Questa sarebbe un scatto Sì, è vero. Abbiamo già ascoltato questa lettura. Da luce, da luce, da coloro... Ora Kate è diventata di nuovo. E se il telefono della telefonia si ringra... Questo è vero. Ora, potresti dare un esempio se un fotografo non posso credere di questo. Ok, se sono diventata, potrei poter andare all'interno. Posso realizzare il tempo? Eh, prova, almeno recuperiamo la macchinetta, scusa. Macchinetta, macchinetta, la recuperiamo. Dimmi di sì. Dov'è? Cazzo, non basta il tempo? Ah, ok. Questo è ottimo per rispondere alle domande del prof, cazzo. Grandissimo. Ehm... Zitti, zitti. Arrivacciamo Gselfie, poi fa la domanda, noi sappiamo la risposta... e facciamo un figurone. Sì. Allora, al volo non è che me la ricordi, quindi... tengo un po' le opzioni. Sì. 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 No, aspetta, prima rispondiamo alla domanda. No, che salta, aspetta. Sì. Sì. Ma come non mi sento bene, devo andare in bagno? Mi scusi. Ma sapevamo la risposta, prima diamo la risposta... e poi diciamo, scusa, io devo andare in bagno. E andiamo indietro. Aspetta... E fatemi capire, però, quando tocca a me. Poi quando diciamo che dovevamo andare in bagno? Probabilmente sì. Ehm... Vai che lo sappiamo. Fai il dito medio a bagascia del lato. Vai col dito medio, vai col dito medio! Grande così. Allora... Momento, ragazzi. Sì, siamo... Ok. Finita la lezione. No, direi che magari... ci possiamo salutare. Possiamo schippare questo? No. Non è vero. Guarda che può essere utilissima sta cosa. Allora... Prima di andare in bagno, ragazzi, direi di... salutarci qui. Ste robe già le abbiamo viste. La foto qui, in teoria, ancora non l'abbiamo fatta, ma non ce la fa fare. Probabilmente è tipo un... Quest'artè non lo vuole, sti cazzi. Damose. Ehm... Non è che magari ci dà una conversazione diversa. Dottor Jefferson, posso parlare con te per un momento? Sì. Lo scusco. Non, Victoria. Lo scusco. Lo scusco. Non 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 lo scusco. Max... Non aspetti molto. John Lennon ha detto che la vita è cosa succede mentre stai occupando altri plani. Ehm... Andiamo ora. Non mi lascia stoppiti. Ok. Va bene. Per annullare l'ultima azione riavvolgendo il tempo. Ehm... L'azione è quella lì, probabilmente. Per dare un'altra risposta, presumo. La tua ultima azione è indicata... Ok. Vabbè, tipo, lo schippiamo sti cazzi. Ehm... Vabbè, ragazzi, come detto, a questo punto direi di salutare... Cazzo. Ah, ok. E che cazzo mi ha fatto nulla fa, scusa. Volei l'altra risposta. Saltasi. Vai così. Mamma mia. Mamma mia. Proprio... È faith in ti. Lascia fare. Questo è un votone, questo è un votone. Cazzo dove ci volevano questi superpoteri quando andavo a scuola, eh. Non sarebbe stato male. Usciamo, va. R2 per muoverti velocemente, ma... Allora... Fermi tutti, ragazzi. Allora... Mi raccomando, voi fatemi sapere la vostra. Le prime impressioni, per quanto mi riguarda, non sono affatto male. Andremo più avanti a scoprire un po' tutto per quanto riguarda il gioco. Metto in pausa perché abbiamo poco tempo. Per quanto riguarda l'audio, spero che non abbia segnalato niente. Nel caso ci fossero problemi audio, vabbè, pazienza. E niente, ci vediamo allora con il prossimo appuntamento, con Life is Strange. Seguitemi anche sul secondo canale, la pagina Facebook. E come detto, se il video vi è piaciuto, condividete, commentate. Fate un po' come vi pare. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da Queltareale.